La cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia. E Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto, un processo di islamizzazione dell'Europa.